cari amici di Outcast, ben trovati con un nuovo appuntamento con Outcast Weekly, un giovedì, questa settimana, e è un appuntamento un po' particolare perché abbiamo un ospite, io sono Andrea Peduzzi e con noi c'è Andrea Dresseno, Andrea Dresseno che è il fondatore, patron diciamo così, dell'Italian Video Game Program e anche, se sbaglio, corredimi se sbaglio, ciao Andrea. Ciao. Anche fondatore dell'archivio videoludico di Bologna. Sì, sì, è corretto, è corretto. Perfetto. Sempre videogiochi sono, ecco, sempre aria videogiochi, sono due progetti molto differenti per certi versi, però sempre legati al tema videogiochi. Perfetto, beh, abbiamo Andrea con noi perché, va bene, probabilmente chi segue Outcast già lo conosce tra varie comparate sui social o qualcosa del genere, ma applicato perché il prossimo weekend si terranno i Vipro Days, che sono praticamente una serie di incontri e conferenze legati all'associazione culturale di Vipro e al progetto culturale che c'è dietro. Però lo chiederemo meglio ad Andrea, però prima ti chiederei di presentarti, appunto raccontare, va bene, un parto lo genetto cosa fai nella vita, come hai iniziato a interessarti ai videogiochi da giocatore e poi in termini professionali. Ah, quanto abbiamo? Abbiamo due ore? No, sto scassando. In realtà io ho iniziato a giocare a scrocco perché giocavo con il Commodore 64, del mio migliore amico delle elementari, quindi ti parlo di 30 anni fa ed ero sempre invidioso perché non ce l'avevo il Commodore. Poi sono passato, fino ad un po' di tempo, ho avuto anche le mie console, sono iniziato a giocare anch'io e quindi mi sono reso autonomo. Diciamo che gioco da tantissimo tempo, quindi diciamo che mi interessa di videogiochi da quando sono bambino. Quindi ho sempre continuato a giocare, anche se i miei genitori non volevano perché c'era quell'idea tipica che il gioco fosse uno spreco di tempo, non dovevo spenderci soldi. In realtà poi l'ho reso un lavoro per cui, diciamo che crescendo un po', ho avuto una rivincita. E quindi sì, ho iniziato scrivendo di videogiochi, poi appunto ho creato questo archivio a Bologna quindi più uno spazio legato alla conservazione. E poi dal 2016 mi occupo di questa associazione che è appunto l'associazione Ivipro, che cura il progetto omonimo, che si occupa appunto di agevolare lo sviluppo di videogiochi ambientati in Italia, legati alla cultura italiana. Quindi diciamo che è una passione che ho da molto tempo, che sono riuscito in qualche modo a convertire in un'attività lavorativa, che però di fatto è sempre un piacere anche quello. Ecco. Poi hai anche collaborato a delle pubblicazioni, se non ricordo male. Sì, sì, ho curato, diciamo che non ho mai scritto libri e penso che non ne scriverò mai perché non riuscirei mai a scrivere un libro, è troppo lungo. Guarda, scusati, ti interrompo, è esattamente quello che penso di me stesso. Ecco bene. Cioè un conto è scrivere un articolo, ma scrivere un libro dopo un po' non lo so, non so se ce la farei invece. Ho curato un libro nel 2011, che è 1.001 videogiochi da non perdere, che era l'adattamento italiano di un libro anglosassone, che è una sorta di piccola enciclopedia del videogioco, con 1.001 videogiochi appunto di particolare importanza, con le varie schede dedicate. E di quel libro ho curato l'edizione italiana, ho anche corretto degli errori che c'erano nella versione originale, ho sistemato alcune schede, è stato un lavoro di sei mesi. Quindi sì, diciamo che ho lavorato anche su quel fronte, ma diciamo che non è la mia specializzazione. Ho capito, vabbè, però comunque ogni tanto collabori anche come pubblicista. Sì, scrivo anche su Evriai, anche se adesso purtroppo lo faccio meno di quanto vorrei, perché tra il lavoro in archivio e il lavoro di Evipro ho poco tempo per scrivere, però diciamo che quando posso mi fa piacere continuare a farlo. Ho capito. Invece, tornando a Evipro, come è nata l'idea del progetto, di quella che è l'associazione culturale che c'è dietro? Chi è coinvolto oltre a te eventualmente? Di che cosa vi occupate più nello specifico? Allora, l'idea è nata in parte da Assassin's Creed, molto banalmente da Assassin's Creed, perché comunque io ho sempre amato Assassin's Creed per la sua ricostruzione storica, per quanto poi ci siano delle licenze poetiche, però c'è molta storia in Assassin's Creed, c'è molta architettura reale. E mi sono sempre detto, ma perché non vengono fatti più giochi legati al territorio italiano, che è pieno di materiale interessante, di personaggi, di storie, perché non se ne fanno di più? Perché non lavorare in questo senso? Visto che esistono in Italia le film commission che si occupano soprattutto di cinema, quindi incentivano il fatto di fare film sul territorio, perché c'è di fatto un beneficio per il territorio e le maestranze che ci lavorano. Perché non lavorarci in maniera strutturata anche sul fronte videogiochi? E quindi da questa idea è nata un po' Evipro. E' nata anche dal fatto che mi ero reso conto di quanto il videogioco potesse essere uno strumento per incentivare il turismo. Io stesso mi ricordo che negli anni 90 giocai a Gabriel Knight 3, non so se lo conosci, cioè il terzo episodio in uno specifico, perché si ambienta a Rennes-le-Chateau, che è un paesino del sud della Francia. E mi ero talmente intrippato con la storia legata a Rennes-le-Chateau che poi sono partito in auto, convolgendo due amici per vedere i luoghi di quel gioco. Quindi in un certo senso Evipro nasce in quegli anni come idea ancora da sviluppare, magari ancora inconscia. E poi è nato nel 2016 come associazione e adesso lavora appunto. L'associazione in realtà non sono l'unico, io sono il presidente, ma ci sono anche altre persone. Il nostro lavoro è un po' sfaccettato, nel senso che da una parte appunto cerchiamo di mettere in contatto chi fa giochi legati al territorio con le istituzioni, anche con le film commission con cui collaboriamo. E dall'altra cerchiamo di fare ricerca, per cui di cercare di individuare quei luoghi, quelle storie del territorio che possono avere un potenziale per diventare videogiochi. e abbiamo creato un database che sta crescendo un po' alla volta che contiene queste storie, che è nel nostro portale Evipro.it. Quindi c'è questo lavoro di ricerca costante che ci porta a fare appunto ricerca sui libri, sugli archivi, anche in loco, per trovare quei posti che hanno delle storie incredibili e sono tantissime in Italia. E da questo poi è nato l'evento che faremo a Ferrara appunto questo weekend, perché ci interessava molto anche parlare di questo tema, perché è un tema di cui si parla tanto negli ultimi anni e quindi riteniamo opportuno creare sempre di più un contesto che comprenda il potenziale del gioco come strumento di divulgazione e di conoscenza del nostro patrimonio culturale. Ho capito. Tra l'altro, io sono un appassionato di folclore, di lettante, diciamo così, e all'università ricordo di aver studiato il metodo storico-geografico, la classificazione delle storie, tutte queste cose che, bene o male, penso che in qualche modo riflettano un po' il vostro lavoro, in questo caso in maniera decisamente meno specifica sull'Italia. Però mi chiedevo, come avete lavorato per questa mappatura? Che metodo avete impostato? Se abbiamo deciso di rendere il database uno strumento ludico a sua volta, nel senso che se ti capita o se capita a chiunque dovesse capitare di andare nel database, si troverebbero quattro filoni di ricerca, che sono location, temi, personaggi e oggetti. Questo significa che ogni location del database viene taggata, diciamo, viene legata, a tipologia di location, a personaggi che l'hanno abitata, ad oggetti che la popolano e a temi che la interessano. Per cui, non lo so, un castello è legato alla location castelli, se al suo interno ha avuto eventi di cronaca nera è taggato con il tema cronaca nera, supponiamo, se c'è vissuto un pittore c'è anche il tag pittore come personaggio e così via. Quindi l'idea era un po' quella di creare anche uno strumento giocoso, perché quando il database crescerà nel tempo, avremo migliaia di schede, si può divertire a mescolare questi tag. Per cui dire, voglio tutte le location, tutti i castelli italiani in cui, che ne so, ci sono dei fantasmi, quindi personaggio, fantasma, in cui è accaduto un fatto di cronaca nera, per dire, e nei quali, non lo so, ci sono dei dipinti, ipotizzo così a caso. Quindi l'idea è quella di creare questo tipo di ricerca, che è una ricerca molto, anche divertente per certi versi. Le location vengono scelte da noi in base al fatto di avere appunto storie particolarmente affascinanti. ora stiamo lavorando molto sull'Emilia-Romagna, per esempio, perché la regione Emilia-Romagna ci sta anche supportando e cofinanziando la ricerca. Quindi ci stiamo lavorando molto sulle storie del territorio milano-romagnolo, però in realtà abbiamo già nel database anche storie di altre regioni e contiamo di aggiungerne sempre di più. Quindi sì, è un lavoro di questo tipo, in soldoni. Per quanto riguarda invece il metodo con cui vi siete mossi voi per raccogliere questi materiali, questi documenti, vi siete mossi in biblioteche, archivi, ma anche avete viaggiato, raccolto le testimonianze orali? Allora, ecco, abbiamo sicuramente lavorato soprattutto tramite bibliografia, quindi biblioteche, archivi e così via. Abbiamo fatto anche sopralluoghi in loco. Abbiamo anche lavorato in alcuni casi coinvolgendo le persone che vivono in quei luoghi, per cui chiedendo anche magari in alcuni casi ci hanno dato una mano anche i comuni stessi. Quindi il comune ci dava dei suggerimenti sulle location da inserire nel database, come di recente è successo con il comune di Rimini che ci ha consigliato due location che il comune stesso ha ritenuto suggestive e ci ha consigliato poi anche i libri da approfondire. Abbiamo fatto anche delle interviste in alcuni casi a delle persone comuni che però è un lavoro molto lungo quello di intervistare le persone, ovviamente, perché ovviamente devi sempre attendere che siano disponibili, capire chi è disponibile e così via. Ci piacerebbe potenziarlo, però è un lavorone quello di includere testimonianze orali nel database, però a volte utilizziamo i consigli anche delle persone. Cioè, se ci pensi, molte delle storie del territorio sono anche i racconti delle nonne, a volte sono storie interessanti che poi una volta che ne vieni a conoscenza, perché magari la nonna di un amico racconta di quel fantasma della villa, allora tu vai a fare delle ricerche e scopri un po' di più su quel fantasma. Quindi, diciamo che il lavoro è strutturato, ma in continuo movimento, perché ci nasce anche un po' da spunti, da coincidenze, ci arriva voce di questo paesino curioso e quindi vogliamo approfondire, però sì, è bello che questo lasciarsi un po' trascinare dalle storie nelle quali ti imbatti. Sì, tra l'altro penso spesso che in Italia ha un patrimonio folclorico, narrativo, anche epico, molto ricco e tra l'altro mi capita veramente ogni tanto di leggere, imbattermi in romanzi, piuttosto che videogiochi, piuttosto che comunque prodotti di cultura, di intrattenimento che contengono storie sviluppate in Italia da italiani e ambientati all'estero. Ora, non voglio fare un discorso sovranista, però in termini creativi è comunque importante spesso la coniarità col contesto da parte di un autore e capita davvero spesso che quando in Italia vengono rappresentate opere ambientate all'estero o appogliate su metologie straniere, se non sono fatte come si deve, molto spesso emerge comunque la loro goffagine. Sì, è vero, è vero. Dipende molto da quanto si approfondisce una storia, nel senso che quello di cui mi sono anche accorto facendo ricerca è che non si può mai prescindere dai luoghi che rappresenti, nel senso che è importante andarci, vedere delle sfumature di un luogo, capire come anche le persone lo vivono. Noi stiamo seguendo come Ivipro un progetto ambientato in Alto Adige nel Acuron, che è il paese con il campanile sommerso, è molto famoso per questo campanile che spunta dal lago. Quello che mi ha colpito molto quando abbiamo fatto i sopralluoghi insieme agli sviluppatori è quanto sia stato utile essere lì quei due giorni, parlare con le persone del luogo che ci hanno poi fatto anche far vedere il museo del paese perché capisci delle sfumature che poi in un gioco poi tu puoi riportare e sono importanti perché altrimenti tutto rimane freddo se tu rimani a osservare le cose solo tramite i libri. Quindi questa cosa che dici in effetti conta molto conoscere i luoghi e quindi credo spesso che invece di andare troppo lontano a volte rappresentare luoghi vicini che si conoscono può essere anche più efficace in termini di risultato. Non è detto però può essere più efficace. No, 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 certo, però diciamo che molto spesso mi capita di notare rappresentazioni di culture estere però rimediate cioè da esperienza basata su materiali a loro volta ispirati a culture estere per cui tante volte manca la prima volta soprattutto in opere prime o in autori che si affacciano per la prima volta nel mondo di videogiochi della letteratura del cinema quello che è però è una cosa a cui penso spesso e tra l'altro tra i giochi che hanno rappresentato l'Italia nel corso degli anni anche nel passato anche prima di Assassin's Creed e certi ne sono quali sono stati quelli che hai trovato più affascinanti interessanti e coerenti proprio da giocatore e quelli che invece proprio no, no, no. In realtà noi abbiamo fatto una mappatura anche dei giochi già realizzati nel nostro sito quindi se a qualcuno interessa si possono anche vedere i giochi già realizzati e al momento sono circa 180 quelli che abbiamo recuperato alcuni sono tra l'altro delle serie per cui se si va a vedere il numero esatto sono di più però Assassin's Creed ovviamente io ce l'ho nel cuore per quanto la serie adesso sia forse un po' troppo sbiadita però è sempre molto affascinante in realtà se dovessi dire un gioco o più giochi legati al territorio italiano anche precedenti ad Assassin's Creed faccio fatica per un motivo molto semplice che ho notato un'evoluzione dell'approfondimento della nostra storia dopo il 2000 con un'evoluzione diciamo in giochi tecnicamente più evoluti ma voglio dire molto banalmente The Town of Light un gioco che io amo moltissimo un gioco molto recente che si ambienta a Volterra e quello a me piace davvero molto l'operazione che hanno fatto perché quel tipo di gioco quel tipo di realizzazione anche artistica tecnica consente davvero di immergersi nell'ex manicomio di Volterra e credo che questo in un luogo reale sia un valore aggiunto perché ritrovarsi immersi in quel modo in un contesto così da virgolette realistico ti dà davvero un senso di presenza notevole mentre se vai a vedere i giochi metati in Italia negli anni 80 ce ne sono tra 80 e 90 ma c'è anche il gioco di DuckTales dove Paperino fa varie prove di sportive in giro per l'Italia quindi vedi lo sfondo vedi l'attore di Pisa sullo sfondo il Colosseo e così via sono bellini a livello di raccolta del già fatto però a livello di immersione si limitano spesso alla superficie ti mostrano i tipici monumenti italiani in Colosseo e così via e tutto finisce lì è venuto in mente il livello del picchiaduro fatto al Fiori Due dove c'era il livello di Andy Bogart che era l'Italia cioè tutto il livello era l'Italia perché lui in gondola combatteva e passava da Roma passava dalla Torre di Pisa è vero perché poi mescolano le cose nel senso che magari trovi un livello acquatico che è caramente Venezia con dentro la Torre di Pisa cioè questa idea è anche molto stereotipata dell'Italia in molti giochi degli anni 80-90 ma ci sta ora invece sto notando una maggior attenzione anche nel differenziare ma penso per esempio al videogioco Anna che si ambienta in Valle d'Aostra in una vecchia sigaria abbandonata che è un horror un'avventura horror in quel caso è fatto da uno sviluppatore italiano e si nota nel senso che uno sviluppatore straniero difficilmente va a prenderti un luogo così definito caratteristico della Valle d'Aosta lo sviluppatore straniero va tendenzialmente a prenderti Roma Firenze Venezia tant'è che la maggior parte dei giochi già realizzati ambientati in Italia segue la direttrice canonica del turista straniero veramente le tre regioni con più giochi ambientati al loro interno sono appunto Veneto Toscana in Lazio se vai invece a vedere i giochi fatti dagli italiani dagli sviluppatori nostrani vedi più varietà perché giustamente conoscono il territorio quindi vedi un'Anna in Valle d'Aosta un The Town of Light a Volterra o vedi le storie degli sviluppatori di We Are Muesli in 20 mesi che parla della resistenza a Milano oppure vedi anche Guissova Aurelia di Santa Ragione che appunto ti conduce sulla via Aurelia cioè è naturale che i nostri sviluppatori abbiano una sensibilità maggiore e secondo me si dovrebbe lavorare su questo versante ok che il videogioco deve essere globale è quello che vuoi deve vendere ma non è che essere globale vuol dire evitare le storie più tra virgolette di nicchia non vuol dire devo per forza ambientarlo a Roma perché altrimenti mi vende meno può anche essere che venda meno però sa che io non faccio business nella vita quindi ci penso meno a questo aspetto però credo che si potrebbe davvero lavorare per valorizzare storie più fuori da questi tour classici ecco sì tra l'altro in Italia effettivamente negli ultimi anni sono comparsi i giochi come dici tu che sono un po' più ricercati per un simile per quanto riguarda la cura nelle ambientazioni di contro mi ricordo che tra l'altro tu stai a Bologna lo Bologna è stato negli anni 80 da un come si dice un po' un laboratorio perché sviluppava videogiochi perché c'era simul mondo per questo e un altro motivo e in quegli anni non ricordo molti giochi sviluppati abilati in Italia vabbè simul mondo ha fatto qualcosina adesso mi pare che Italian Nights potrei guardare in temporale nel database penso che ce l'ho di fronte Italian Nights 1999 se non sbaglio è un gioco di simul mondo perché per mai comincio a invecchiare dimentico le cose però lo sto guardando in tempo reale perché ho il database di fronte a me ed è un gioco che si ambienta a Milano per esempio è una sorta di avventura italian night 1999 sì sì l'avevo rimosso è di simul mondo del 92 è un'avventura grafica diciamo si ambienta in Italia e c'è la mappa di Milano fondamentalmente c'è una specie di gioco investito io non l'ho giocato però a parte che è curioso la copertina sembra c'è questa donna sdaiata su una Ferrari lasciamo perdere vabbè la rappresentazione della donna sdaiata sulla Ferrari con uno sfondo che sembra New York in realtà è Milano è la Milano da bere è la Milano da bere con i grattacieli un po' immaginata un po' futuristica per certi versi però è bello perché c'è tutta la mappa di Milano quindi si vede Parco Sempione Piazza del Duomo poi il giocatore si muove in questi poi ovviamente la riproduzione è molto da quel che so è molto in interni quindi gli esterni sono più che altro citati li vedi in mappa però c'erano delle cose anche in quegli anni c'è un altro gioco tra l'altro che ho scoperto facendo ricerche per il database che si ambienta parzialmente in Abruzzo ed è Profezia che è un gioco della Trecision che è una casa che adesso non c'è più ma del 91 per Amiga un'avventura grafica testuale che si ambienta tra Abruzzo e Lazio e compagno dei borghi del luogo c'è Pescasseroli non so se dove si mette l'accento Pescasseroli c'è Capistrello che sono in provincia dell'Aquila sto leggendo perché non è che mi ricordo tutte queste cose poi nel gioco si fa menzione anche del lago di Scanno il comune di Roccasecca che sono posti quasi sconosciuti non sono non è Venezia ecco non è Roma quindi ed è nel 91 quindi è interessante che alcuni giochi già andassero a utilizzare i nostri luoghi e le nostre storie in maniera ancora molto semplice con rappresentazione intanto Profezia è un gioco fantasy per cui le ambientazioni in sé sono rappresentate come se fosse un gioco fantasy molto generico però i nomi e i luoghi sono quelli dell'Abruzzo e del Lazio per cui c'erano già esempi di questo tipo è interessante anche scoprirli perché poi io stesso li ho scoperti facendo ricerca non è che li conoscessi prima di lavorare insieme agli altri ragazzi a questa mappa dei giochi ambientati in Italia tra l'altro appunto il vostro compito è quello di tra virgolette sprovincializzare l'Italia perché ci vuole sviluppare i giochi quindi magari portarli in luoghi che non sono i soliti come dicevi tu fuori da quelle che sono le tappe del turismo convenzionale o di quello che è l'immaginaria collettiva ci proviamo nel senso che come ti dicevo il gioco ambientato in Alto Adige a Curon in un certo senso rientra in questa filosofia cioè Curon ok Campanile Sommerso è celebre ma ovvio che è un piccolo paese dell'Alto Adige al confine con l'Austria e la Svizzera quindi è comunque già fuori dai giri canonici ma abbiamo anche supportato un gioco di cui si parlerà anche agli Vipro Days che è The End of Glory un'avventura grafica ambientata anche a San Leo in Romagna un borgo tra l'altro meraviglioso ma comunque ci sono sempre luoghi se ci fai caso fuori dal classico itinerario turistico delle grandi città d'arte a noi fa molto piacere questo tipo di supporto perché ci piace ci piace dare aiutare questa riscoperta di luoghi meno meno battuti ecco quindi bene bene che ciò avvenga ma tipo recentemente abbiamo anche seguito ma seguito più che altro come osservatori abbiamo anche fatto un articolo su un gioco chiamato Game Over Carrara che è un gioco che immagina una Carrara post-apocalittica invata dagli zombie per mobile si può scaricare un'avventura grafica in soggettiva stile mist diciamo anche lì è interessante immaginare una Carrara non è certo il tipico posto protagonista di videogiochi ecco e averlo come scenario di un horror con gli zombie è interessante quindi è bello avere una visione un po' diversa anche dei luoghi italiani si tra l'altro in questo senso voi fate anche divulgazione didattica leggevo sul vostro sito leggevo anche dei corsi di game design il vostro focus anche in questo senso è quello di diciamo mettere l'accento sul territorio si infatti adesso inizieremo ad ottobre facciamo il primo di una serie di corsi legati appunto al game design per il territorio quindi avremo dei docenti che sensibilizzeranno sono corsi base questo sarà un corso di 21 ore che cercano di introdurre chi è interessato cioè di introdurre una sensibilità al tema del game design applicato alla ricerca territoriale perché anche questo secondo me è importante nel senso far capire come si si approccia ad un'opera legata al territorio e che non è così scontato capire come fare come muoversi rispetto alle istituzioni che tipo di sensibilità mettere in campo rispetto anche a come si trattano dei temi legati al territorio perché se tu ci pensi quando vai a trattare un tema legato ad un borgo ha a che fare molto più facilmente con le persone che lo abitano devi essere anche rispettoso dei temi che affronti ancor più quando si tratta di temi magari complessi cito ancora il gioco di Curon a Curon si parla di un paese allagato per costruire una diga un allagamento che certo non fu ben visto dalla popolazione che dovette abbandonare le case non è facile parlarne non sono temi facilissimi e immagina cosa vuol dire parlarne in un gioco per me si può fare però far capire quanto un gioco possa essere veicolo anche di storie complesse non è facile con il pregiudizio che a volte c'è rispetto al videogioco quindi questi corsi che inizieremo a fare vogliono un po' dare questa questa introduzione questa sensibilità a chi a chi parteciperà appunto ai corsi e poi appunto gli eventi che facciamo di alfabetizzazione come quello di Ferrara o quello fatto l'anno scorso a Bologna che è stato un seminario sempre su questo tema vuoi parlarci un po' dell'evento di Ferrara nello specifico con chi l'hai organizzato quali sono diciamo i relatori a cui avete puntato allora l'evento di Ferrara durerà due giorni quindi sabato 14 domenica 15 un evento gratuito ma su registrazione abbiamo avuto tra l'altro un sacco di iscritti ci fa molto piacere è un evento appunto promosso è sold out per adesso per il momento è sold out è sold out abbiamo una lista d'attesa con alcune persone ancora in pending che probabilmente sperano che qualcuno si rompa una gamba e non possa venire nel senso che sono in lista d'attesa per cui se qualcuno si disiscrive in questi due o tre giorni noi facciamo passare ovviamente dammi il biglietto a loro quindi è andato molto bene in termini di affluenza sarà appunto al castello Estense quindi ci fa anche molto piacere la location il castello Estense di Ferrara è un posto incredibile quindi è promosso è un evento promosso da Ivipro con il supporto organizzativo di Game Happens che è un'associazione ligure che si occupa dell'omonimo evento che da alcuni anni viene fatto a Genova e cofinanziato dalla regione Emilia Romagna e con il patrocino del comune di Ferrara che appunto ci ospita al castello Estense abbiamo anche un partner tecnico che è che ci aiuta sul fronte ai monitor perché avremo anche un'area con dei monitor che mostreranno in continuazione il trailer dei giochi di cui parleremo durante l'evento quindi diciamo che quest'anno l'evento cresce un po' rispetto all'anno scorso che è stato più un seminario di una giornata un po' più piccolo quest'anno diventa di due giornate con ospiti internazionali perché l'idea è appunto di mantenerci sul tema del videogioco come risorsa per raccontare il territorio e anche promuoverlo in alcuni casi però abbiamo ampliato il numero di incontri di ospiti per cui avremo sviluppatori sia italiani che internazionali avremo accademici che studiano questo tema avremo anche istituzioni che parlano del loro approccio della loro esperienza col videogioco appunto sono circa 20 relatori per cui magari te ne cito alcuni che mi fa molto piacere avere ospiti all'evento in particolare Florent Moren che è giornalista francese che ha realizzato per le Pixelant il gioco Burry Me My Love non so se lo conosci ma sì sì l'avevo giocato ne avevo scritto io su Alc ecco vedi quindi lo conosci molto bene mi piace molto perché è un gioco che parla di un tema complesso come quello dei migranti dei rifugiati appunto parla di questa rifugiata siriana che cerca di venire in Europa ma la cosa molto bella è che il gioco si basa su una conversazione via messaggio con lei quindi tu sei il suo marito il suo compagno che rimane in Siria e lei ti scrive per raccontarti come sta andando avanti il suo viaggio e ti chiede anche consiglio quindi c'è anche quell'angoscia di aspettare il messaggio di lei è molto affascinante come esperienza ludica perché è molto basata su ricerche sul campo da parte dello sviluppatore e lui sarà appunto presente per raccontare questa esperienza non è un'esperienza legata al territorio italiano però è un'esperienza legata al territorio alla storia alla contemporaneità quindi ci faceva piacere quest'anno allargarci anche a esperienze straniere ci sarà Witt Sisler che è un ricercatore cieco della Repubblica cieca che parlerà di Attentat 1942 lui ha fatto è stato game designer per il gioco un gioco che racconta l'occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale nella Repubblica cieca e loro saranno due ospiti stranieri che ci fa molto piacere avere poi tra l'altro avremo anche sempre per rimanere in Repubblica cieca anche Ian Cavann che sta realizzando un horror chiamato Someday You Return che si ambienta nella zona della Bohemia del Nord della Moravia del Sud e attinge dal folklore locale per cui ci interesserà molto in questo caso focalizzarci sul tema del folklore inserito in un gioco in un videogioco horror poi avremo anche italiani avremo appunto in Santa Ragione Pietro Righi Riva avremo Open Lab Games con Pietro Polsinelli che parlerà di football drama che è un gioco sulla cultura del calcio che uscirà qualche giorno dopo di Vipro Days avremo Elisa Farinetti di Broken Arms Games che parlerà di Android Days che è un gioco sulla cultura del vino in questo caso quindi che è un gestionale che segue tutta la filiera del vino dalla vendemmia all'imbottigliamento è molto interessante a livello di racconto della cultura diciamo appunto del vino che in Italia è molto sentita e quindi ci faceva piacere parlarne a remontavolo sulle esperienze in Emilia Romagna cioè legate proprio al territorio di Milano Romagnolo avremo appunto The End of Glory avremo il gioco il recente gioco di Mela Z dedicato a Bologna la città di Bologna e i suoi musei avremo We Are Paglio un gioco legato al Paglio una tradizione italiana molto forte che ha delle città molto rappresentative tra cui anche la stessa Ferrara e poi non lo so abbiamo la radio educazione legata al territorio di musei e videogiochi con Mirazna il gioco legato agli etruschi di cui si è parlato molto con Michele Scioscia di F9 che parlerà di Inventum che è un gioco realizzato in Basilicata per il museo archeologico di Venosa in realtà aumentata quindi ecco sarà un programma molto variegato speriamo bello nel senso ovviamente questo lasciamo poi dire al pubblico però siamo soddisfatti questo posso dirlo perché si parlerà di tante cose bene cioè bene speriamo tutto vada bene ecco faccio faccio le corna però in bocca al lupo insomma mi sembra che sia una roba abbastanza corazzata come interventi come come ospiti così per voi avercene sì speriamo no confidiamo ad avventato sarà un evento per metà in inglese per cui tutte le lecture perché avremo cinque lecture e cinque conversazioni quindi delle tavole rotonde e delle lecture con un singolo ospite le lecture saranno in inglese anche per un'idea di cominciare un po' a dare a dare una sorta di parvenza anche più internazionale all'evento stessa nell'ottica poi di una crescita futura quindi tutti gli incontri saranno registrati quindi poi in futuro li metteremo online non so ancora se in maniera in versione integrale o più condensata però un po' la volta proviamo a crescere a far conoscere sempre di più questo tema perché ripeto secondo me la cosa importante è creare un contesto che capisca le potenzialità del videogioco come strumento appunto per raccontare il nostro territorio soprattutto lo faccia capire le istituzioni perché ovviamente non lo conoscono ancora bene e quindi farlo capire a loro di fatto poi di riflesso va a beneficio anche di chi sviluppa perché possono nascere collaborazioni e possono quindi nascere nuovi giochi quindi chissà noi vogliamo cerchiamo di fare qualcosa che sia utile ecco perfetto guarda ti chiudo con un'ultima domanda che è più che altro una curiosità se tu potresti scegliere dove ambientare o sviluppare un videogioco dove lo ambientaresti oddio così beh c'è un posto che mi ha molto sono datissimi posti in cui l'ambienterei tra l'altro rispetto al gioco di Curon in Alto Adige noi stiamo collaborando anche su Fonte Ricerca ed è uno scenario che mi sta piacendo molto quindi lo ambienterei lì perché è un luogo che mi ha molto colpito la storia di Curon e di questo paesino sommerso però per esempio un altro posto che mi ha molto colpito è stata Narni in Umbria che la Narni sotterranea quando l'ho visitata mi ha molto colpito per tutta quella quella l'atmosfera esoterica legata a queste questa città appunto sotto che era sotto la città di della Narni odierna con delle celle legate all'inquisizione quindi molto molto broken sword molto cospirazione molto massoneria e a me quei temi lì sono sempre piaciuti molto quindi chissà che un giorno non venga fatto un gioco sulla Narni sotterranea ma davvero la Rocchetta Mattei in provincia di Bologna che è un posto fuori di testa questo castello pieno di simbolismi anche qui esoterici ecco l'esoterismo mi interessa molto per una mia ma io amo anche l'horror per cui quei temi mi piacciono quindi ecco ti direi la Rocchetta Mattei questo castello in cui questo conte aveva creato questo conte Cesare Mattei aveva creato dell'elettro-omeopatia per curare i malanni e ci andavano un sacco di personalità anche straniere ed è un posto pieno di davvero è difficile da descrivere consiglio di cercarlo su Google ma è pieno di simbolismi curiosi c'è davvero tantissimo e spero di giocarli questi giochi in futuro ecco va bene dai lo speriamo anche noi in bocca al lupo per l'evento crepi o viva il lupo e quindi tutti sia viva il lupo che crepi il lupo così siamo sicuri e grazie per averci prestato il tuo tempo per averci tenuto per questa chiacchierata grazie a voi e alla prossima grazie per averci ascoltato grazie a tutti ciao a presto ciao Grazie.